2-9-2-9 3-9-5 secondi Stacco ha trovato una bomba Prepararsi all'azione nemica Operatore alleato rimasto Benvenzione in pattuglia Benvenzione in pattuglia Benvenzione in pattuglia Benvenzione in pattuglia Tutto mica in partenza Guarda che non ho trovato una bomba Guarda che non ho trovato la bomba Ok Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì, sì. 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 Sì, sì. Cavanata in volo! Facciamo fischiare qualche orecchio. Vado! La tua posizione è stata compromessa. Nuovo caricatore! Non è più il disilentatore. Qualcuno ti ha scoperto. Nuovo caricatore! Il disilentatore è di nuovo nostro. Non è piacevole, eh? Vieni! Distraigli. Metto una Claymore! Drone stordente operativo! L'ho scoperto! Under drone stordente! 15 secondi! Abbiamo caricatore! Abbiamo caricatore! Andiamo a 10 secondi! 5 secondi! Dobbiamo recuperare il disilentatore! Resta solo un operatore d'attacco! Difensori neutralizzati! Mamma che è partita alla fine! Siamo ripresi! Ragazzi sto giocando di merda! Non mi interessa un cazzo! È importante vincere! Vai! Andiamo avanti cazzo! Uh! Tutte perse! Mamma no! Non ha vinta! Gesù Cristo! Vamos! Alla prossima!